E ora, qui direi che possiamo andare con la nostra fine con la sua Ridiciamo con il popolo e per la precessione con tanti match Inerito team totalmente al femminile, formato da Oliver Una delle più importanti wrestler a livello americano Ha lottato nella Women's of Wrestling, nella Rico World e persino nella WWE Insieme a lei ci sarà Mary, che è il reddice di una trasferta in Giordania Dove ha trattato l'ex star WWE, Emma Anche se io penso che molti di voi la vengono vedendo per essere stata distrutta e aspantata Al mio assistito, Mr. Plata e l'alancata Antonio Paz Vabbè comunque, entrambi dovranno affrontare un team anche sconosciuto In parte il famoso manager, Mr. Van Mates È stato così capitatevole di occuparsi per con della resta stagna Di trovare e valevoli avversari Quindi, nel primo che entrare, direttamente dagli Stati Uniti e Italia Il team composta Oliver e Mary Grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.